Aspetta! Lascia, ci penso io. Non fare aspettare lo sposo. Com'è possibile che un piccolissimo dettaglio ti possa cambiare la vita? Ecco lì! I bagli sposi! Contenti dei vostri posti? Assolutamente. Stupendo. Hai scelto benissimo. Marjorie? Certo che se continua a mettersi pesci morti sulla testa, non si sposa più. Sono vergine. Cioè, vergine, ma soltanto disegno. Forse non sono stato molto chiaro con te, Mari. Il problema non sei tu, sono io. Sono desolato, signore. Davvero. Ma è terribile. Mi scusi tanto. Mi accompagni? Tut, 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 tut. Al lavoro. È il momento? Ora assaggiando. Anassa, senti che buone? Qualcosa? Sto ovulando. Ma che cosa fai? Pare che favorisca la fecondazione Io sono sterile Voglio il divorzio E se cambiasse l'ordine dei cartoncini? David Lebacher, sono fotografo Sei una modella, vero? Modella? Se continua a mettersi i pesci morti sulla testa non si scusa più Io ti trovo molto graziosa con questo cappellino Sei bellissima Fantastica Lo so, adesso mi dirai Il problema non sei tu, sono io, bla 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 Vorrei rivederti domani, e tu? Sono desolato, signore, davvero Ma è derricka Sono incinta Diventerò, papà? Sì, sì, sì Dopo Sliding Doors Arriva una commedia Dal finale imprevedibile E se invece di mettere i cartoncini Lasciassi decidere al caso Se sposti un posto a tavola Suo marito lavora al pronto soccorso? Sì, al pronto soccorso No, non mi aspettare Sto facendo un'operazione Sto salvando una vita Ma tornerò per cena, amore? Al Gineman Sì, al pronto soccorso Sì, al pronto soccorso